a tutti voi buonasera dal Tg Max in apertura una brutta pagina di cronaca erano state sospese quattro giorni fa le ricerche di Ivano Dintino il giovane 35 anni scomparso il 10 luglio dopo un incidente con la moto a casa l'incontrada ieri il corpo senza vita è stato ritrovato dentro un fitto roveto il giovane si sarebbe impiccato tragico epilogo nelle ricerche di Ivan Dintino il 35 anni residente a casa l'incontrada ieri il corpo senza vita è stato ritrovato nel territorio del comune di Bucchianico in località Colle dei Gesuiti dentro un fitto roveto il giovane si sarebbe impiccato aiutandosi con la tracolla del suo marsupio a trovarlo uno dei fratelli che si era unito ad una pattuglia di volontari le ricerche infatti erano state ufficialmente sospese quattro giorni fa dopo una riunione in prefettura a Chieti la zona di ritrovamento era stata già battuta ma non quel fitto roveto difficile da raggiungere e comunque non segnalato dai soccorritori il corpo è stato trovato grazie al cattivo odore che emetteva in quanto già in avanzato stato di decomposizione si parla di sette giorni per recuperare la salma è stato necessario l'intervento di alcuni trattori non è stata disposta all'autopsia sul posto è intervenuto anche il comandante della polizia municipale di casa l'incontra da Gabriele Adriani la zona è stata interessata dalla ricerca diciamo dall'inizio però diciamo il posto era nascosto tra rovi e un fossato veramente difficilissimo da raggiungere e soprattutto non era a vista un posto celato dalla vegetazione alta alberi rovici e spugli vari le ricerche sono state ininterrotte in particolare i carabinieri diciamo tra l'altro dei parenti dello scomparso che lavorano nei corpi di polizia dello Stato questo è un fratello in particolare che si è ovviamente dato da fare tantissimo ed è stato lui il primo ad avvistare il corpo dopodiché siamo intervenuti con il comandante della stazione carabinieri Dintino era scomparso domenica 10 luglio a bordo di una moto era scivolato finendo contro un'auto nell'abitato di casa l'incontrada e riportando solo alcune scoriazioni da quel momento si è allontanato facendo perdere le sue tracce alle ricerche hanno preso parte 25 uomini tra vigi del fuoco, guardia di finanza e soccorso alpino un elicottero e un cane molecolare giunto però solo tre giorni dopo la scomparsa accanto al corpo i carabinieri non hanno rinvenuto nessun biglietto il giovane che lavorava per Enel Gas lascia la moglie una figlia di 14 anni a Francavilla al mare all'interno di un cantiere di lì è stato ritrovato senza vita il corpo di un giovane 17enne si attende l'autopsia per chiarire se si sia trattato di suicidio o morte accidentale il corpo senza vita di un 17enne di Francavilla al mare è stato trovato all'interno di un cantiere dove i lavori sono attualmente fermi la zona si trova nei pressi dello stabilimento Stella del mare di Francavilla a darne l'allarme ai carabinieri è stata una signora che abita in un condominio che si affaccia sul cantiere per ora si sa solo che il giovane è caduto dall'alto sarà l'autopsia ad accertare se accidentalmente o per suicidio i genitori non lo avevano trovato a casa stamani ma non si sono preoccupati perché pensavano fosse andato a scuola a sostenere alcuni corsi di recupero il PM è titolare dell'indagine del sostituto Andrea Dell'Orso la salma del ragazzo è stata trasportata al centro di medicina legale dell'ospedale di Chieti omicidio Tortella solo tre giorni fa era stato condannato a 20 anni di reclusione Luigi Del Bello per aver ucciso la moglie nella notte tra il 20 e il 21 luglio scorso questa mattina l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del centro per anziani dove scontava i domiciliari Luigi Del Bello 81 anni di frise è morto dopo aver tentato il suicidio lasciandosi cadere dalla finestra del bagno al secondo piano della residenza per anziani di Orsogna qui l'anziano era detenuto agli arresti domiciliari dopo la condanna a 20 anni di reclusione messa tre giorni fa in primo grado dal tribunale di Lanciano Del Bello era stato ritenuto responsabile dell'omicidio aggravato volontario della moglie Emilia Tortella 74 anni avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 luglio dell'anno scorso Del Bello si è buttato dalla finestra intorno alle 9.30 di questa mattina riportando ferite gravissime tali da richiedere all'intervento dell'elisoccorso l'uomo è stato trasportato a Teramo dove sarebbe giunto cadavere nella residenza dove è venuto il fatto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orsogna al 118 di Lanciano E lasciamo la cronaca per occuparci di sanità il commissario Gianni Chiodi ha deciso di sospendere per 15 giorni ticket da 10 euro sulle visite specialistiche in attesa di avere un incontro con il governo centrale la misura ha detto inique e inaccettabile per una regione ancora soggetta a commissariamento La manovra finanziaria varata dal governo si ripercuote pesantemente anche sull'Abruzzo, regione che ha ancora la sanità commissariata gli effetti sono stati analizzati dal governatore e commissario d'acta Gianni Chiodi questa legislatura ha detto due anni e mezzo fa è iniziata con una situazione di allarme rosso una crisi da debito esplosiva, un sistema sanitario che stava deflagrando una crisi internazionale che colpiva le possibilità di occupazione in maniera violentissima e in più un terremoto devastante Oggi, dice il Presidente, non siamo ancora usciti dalla crisi ma l'allarme è sceso di livello non può dirsi lo stesso per la sanità dal momento che il governo ha introdotto un ticket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche ticket che Chiodi reputa misura iniqua e inaccettabile per una regione ancora commissariata e che ha deciso di sospendere per 15 giorni in attesa dell'incontro con il governo fissato per mercoledì 20 luglio L'Abruzzo ha raggiunto dei risultati straordinari in termini di sanamento quindi deve avere sia lo sblocco del turnover per quanto riguarda i medici perché dal 2007 l'Abruzzo non può assumere un nuovo medico intanto tutti vanno in pensione e vado a chiedere naturalmente la possibilità poi di poter in qualche maniera fare degli investimenti che prima non potevamo fare perché eravamo nel piano di rientro naturalmente tenterò anche di vedere se c'è uno spazio per i ticket ma credo di no perché le regioni che sono in piano di rientro non hanno discrezionalità comunque noi 25 euro li avevamo già dal 2007 mi sembra per i codici bianchi mentre invece 10 euro per prestazioni specialistiche avevo cercato di impedirlo nel 2009 e ci eravamo riusciti oggi è una legge nazionale, le regioni in piano di rientro non hanno discrezionalità ma se ci dovesse essere un solo pertugio mi ci infilerò Ancora Sanità nel prossimo servizio a Chieti il Partito Democratico vuole istituire un coordinamento provinciale per affrontare i problemi sanitari e avviare un confronto in Consiglio regionale e Commissione Sanità Un coordinamento provinciale sulla sanità nel Chietino è quanto propone il Partito Democratico riunito in delegazione presso la sede della provincia con il segretario Camilo Di Giuseppe è sempre ancora il tema della sanità ad occupare principalmente l'attività politica del PD come ribadisce anche il segretario regionale Silvio Paolucci intervenuto all'incontro Il Partito Provinciale di Chieti intende istituire un coordinamento Io aggiungo il Partito regionale quattro forum provinciali e uno regionale proprio perché immaginiamo che il limite vero per quanto riguarda il campo della sanità e delle scelte attuate sia stato quello di non produrre nessun momento di confronto di partecipazione e pertanto noi vogliamo recuperare su questo D'altra parte l'ingigantirsi delle lunghe file d'attesa il fatto che dal punto di vista dei costi aumenta la mobilità passiva e diventa davvero onerosa per la nostra regione sono sintomo di una diminuzione della qualità e della quantità del servizio E però come noi abbiamo fatto anche per l'economia non ci sottraiamo a nessun tipo di confronto a patto che questo confronto venga portato nelle sedi deputate a farlo cioè il Consiglio regionale e la Commissione per la Sanità Lì noi saremo responsabili come d'altra parte la nostra storia dimostra perché l'intero impianto normativo e legislativo dell'attuale regione Abruzzo è quello precedente, dall'aggiunta precedente quattro leggi enormi di riforma compreso l'ultimo piano sanitario regionale non ci sottraiamo però oggi è necessario che qualche atto e qualche provvedimento venga finalmente portato in Consiglio regionale Il Comune Terramano di Controguerra acquista un defibrillatore e il Sindaco Mauro Scarpantonio diventa rianimatore conseguendo anche l'abilitazione all'uso del defibrillatore automatico esterno rilasciata dal 118 È la novità salva vita messa in campo dall'amministrazione comunale che ha installato l'apparecchio in una cassetta di sicurezza posta esternamente al Palazzo Civico oltre al primo cittadino sono stati formati un barista, un istruttore sportivo ed un semplice cittadino volontario intervengono 24 ore su 24 nel caso di chiamata di pronto soccorso per un paziente colpito da arresto cardiaco l'operatore del 118 che riceve la chiamata d'emergenza a Controguerra contatta il cellulare una alla volta ai singoli volontari chi di questi raccoglie l'allerta si rega con il defibrillatore nel luogo in cui si trova il paziente e pratica l'operazione in attesa che arrivi l'ambulanza Ha rischiato di saltare per mancanza di fondi la tradizionale processione a mare della Madonna del Carmine a Fossacesia ma grazie al sostegno economico di fedeli e amici la processione si è svolta come da programma La Madonna del Carmine e la sua processione a mare segno propiziatorio e di grande devozione per i marinai che si affidano alla protezione della Vergine una festa che si celebra il 16 luglio in tutta la penisola nelle comunità marinare dell'Adriatico, del Tirreno, dell'Oionio la statua della Madonna e le immagini si riferiscono alla festa di Fossacesia Marina viene portata in processione per poi proseguire verso terra e celebrare la messa nella chiesa a lei dedicata feste particolari cariche di speranza per un futuro migliore che devono sopravvivere per dare conforto a vicende terrene segnate da crisi e da problemi quotidiani pensate che a Fossacesia le celebrazioni fino a qualche giorno prima della ricorrenza erano praticamente saltate per mancanza di fondi e contributi una fede troppo grande quella della comunità che ha saputo dunque organizzarsi attorno alla famiglia Rotondo che in ricordo di Mario scomparso qualche anno fa ha trovato il necessario col contributo di tanti amici e dei devoti Rosari è la sorella di Mario Rotondo un gesto di profondo attaccamento nei confronti di questo territorio Sì decisamente, comunque è voluta, soprattutto è nata come iniziativa sono stata l'artefice dell'iniziativa perché in realtà volevo che ci fosse una testimonianza di quanto nonostante siano passati comunque sia 4 anni dalla scomparsa prematura ovviamente di mio fratello voglio dire insomma tutti hanno dimostrato che comunque c'è ancora il ricordo per cui è valso soprattutto come testimonianza dicevo di quanto lui ha fatto e del bel ricordo che comunque ha lasciato quindi io l'ho fatto semplicemente per questo insomma ci ho messo il cuore e ci sono riuscita Il rischio era quello di non poter festeggiare feste tradizionali importantissime La festa sicuramente non si sarebbe fatta perché comunque è nata proprio da questa la cosa io ho saputo che non si sarebbe fatta la festa per problemi di fondi vari insomma di organizzazioni varie per cui è nata così insomma come gioco Ed ora la pagina sportiva per il calcio il Pescara tratta con il Lecce per il difensore di Amutene il Lanciano minimizza il deferimento dovuto ad un vizio di forma all'Aquila potrebbe tornare il tecnico Paolo Stringara Mentre il Pescara suda e lavora nella sede del ritiro con la dirigenza impegnata nella trattativa con Lecce per confermare di Amutene il Lega Pro comincia ad entrare nel vivo la compravendita quest'anno sempre più segnata da crisi ed austerity il Lanciano deferito dalla disciplinare su segnalazione della Covisoc non teme affatto penalizzazione in classifica si è trattato semplicemente di un vizio di forma nel pagamento delle spettanze di Mario Artistico in passione calcio e in attesa di presentare il nuovo tecnico Carmine Gautieri Guglielmo Maio ha spiegato tutto da segno di artistico invece che passare per un errore di forma per un errore della mia contabilità invece che passare dal conto relativo agli stipendi e passare dall'altro conto questo è successo non è successo niente Morante, penalizzazione niente è una cavolata di quelle che ti fanno avere il deferimento al massimo prenderemo una multa come ci è successo con Pagliari la procura aveva chiesto 21.000 euro di multa per lo stesso motivo ci hanno condannato a 1.000 euro quindi è semplicemente questo è un errore di forma con di incontabilità in seconda divisione l'Aquila sta già setacciando il mercato ed è in discrezioni si affiderebbe come guida tecnica all'ex tecnico di Livorno e Cosenza Paolo Stringara in un clamoroso ritorno da Lanciano potrebbe vestire la casacca rosso-blu Roberto Colussi che non rientra più nei piani tecnici dei frentani il Celano si sta muovendo sul mercato a fari spenti nei prossimi giorni il club marsicano potrebbe ufficializzare tre ingaggi si tratta di Antonio Croce attaccante foggiano classe 86 e ancora il difensore ex San Giovannese Davide Salvatori 1985 e il terzino delle giovanili del Lecce Bruno per i chieti linea verde col DS Battisti a caccia di talenti dal Nissa è arrivato Ivano Feola trattativa praticamente chiusa col crotone per Emanuele Malerba nel mirino l'attaccante spagnolo Alberto Seballos e sono 15 le società di Lega Pro che il Consiglio federale ha deciso di non iscrivere ai rispettivi campionati in prima divisione non sono stati ammessi Atletico Roma, Gela, Salernitana, Lucchese e Ravenna in seconda divisione sono state escluse Brindisi, Cavese, Cosenza, Matera, San Remese Catanzaro, Canavese, Crociati, Noceto Rodengo, Saiano e San Giovannese Era questa l'ultima notizia vi lascio al Meteo Max noi ci vediamo domani, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti